Come funziona la differenza in questi casi? Questa volta però tocca usare quelle cose che avevo scritto prima che abbiamo macellato. Allora, vediamo mostre se la ricostruisco. Quanta è l'energia totale nel sistema del laboratorio? L'energia totale nel sistema del laboratorio è... No, 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 niente mezzi, scusate. Questa è la particella 1 e questa è la particella 2, diciamo, se volete. Sono uguali e hanno massa m. Potrebbe essere la massa di un prodotto. L'energia totale nel sistema del laboratorio è l'energia di 1, che sarà a sua volta quella che sarà, l'energia a cui l'acceleratore ha portato l'oggetto in questione, più l'energia di 2, però 2 sta fermo, quindi la sua energia è solo mc4. No, non è 0, è mc4. No, non è 0. È mc4. È bene? È bene. No, vabbè, è 1 o 2 sono uguali, perché tanto 1 o 2 sono le stesse particelle, quindi non cambia. La quantità di moto totale nel sistema del laboratorio qual è? è solo quella di 1, perché di 2 sta fermo. Quindi è p1, chiamiamola la moto. Allora, usiamo la relazione fondamentale di tutti qui sopra, quella per cui è quadro o meno p quadro o c quadro che è un invariante. Quindi, io scrivo questa cosa qua e poi dopo che c'è questo qui facciamo i conti. Questo, che è l'energia totale al quadrato del sistema del laboratorio, meno la quantità di moto quadrata, totale, stessa quale percettuale, è uguale alla stessa cosa calcolata in quest'altro sistema. Quindi questo è un invariante. Ma in questo sistema la quantità di moto totale è vera. E quindi questo è uguale, la religia totale nel sistema del centro di massa al quadrato. D'accordo? Il conticino è semplice, ma quando abbiamo rispito, il risultato finale è spassoso. Il conticino è semplice, ma quando abbiamo rispito, scop石i, ma quando abbiamo rispito, lavoro senza popolov, Se nonaći un po', lo devo scopere. No, no, no. Adesso, stanno sonto. Lo scoprio. Allora, questi ci sono att胡 forum e sommaggioni... avevo che ha fatto un secondo di seeingupa iniziale. perché questa cosa qua con tutti i sistemi di riferimento hanno lo stesso valore quindi questa è uguale ma nell'altra c'è solo questo perché la quantità di modi per il sistema di cento di massa è zero adesso due fane ne fanno i quadrati tenendo conto che questo e questo qua diciamo sto quadrato quindi questo al quadrato fa è 1 quadro più m quadro c alla quarta più 2 è 1 m c quadro meno p1 quadro c quadro perché il p totale del laboratorio è soltanto quello della particella 1 è uguale all'energia totale quadrata nel centro di massa va bene? e cosa ho convinto? il quadro è tutto sì no mi torna? più 2 è 1 giuro che giusto non lo so non lo so ma non lo so più una volta tanto sono riuscito a fare 4 moltiplicazioni non lo so 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 ma no fatto il quadrato di questa cosa questo meno questo è m quadro c alla quarta perché è la variante della particella 1 quindi un altro m quadro c alla quarta quindi al posto di questo qua posso scrivere 2 2 m quadro c alla quarta più 2 e 1 m c quadro uguale a parola c mettere in evidenza 2 m c quadro e portare di sotto e viene e 1 più m c quadro è uguale a energia quadrata totale nel centro di massa diviso 2 m c quadro e non ho fatto i punti 2 m c quadro in buro c quindi dopo questa è l'energia totale del laboratorio e quindi il risultato finale è che quando siamo in generale in generale questo è vero in generale in realtà l'energia totale nel sistema del laboratorio è uguale all'energia totale del centro di massa al quadrato diviso 2 m c quadro ora si potrebbe far vedere facendo gli sviluppi in serie che se vado a basse velocità io otteniamo il giochino classico che quindi questa non al quadrato è metà di questa però invece giochiamocela in generale parliamo di alta energia allora facciamo un esempio numerico abbiamo visto che se voglio sbatacchiare automobili ricordo se voglio avere con certa energia nel sistema del centro di massa e invece lo faccio mettendo un'automobile contro quella ferma ce ne devo mettere il doppio dentro metà per averlo mettiamoci un processo fisico realistico anzi no ah ora minuti che ci mettiamo una cosa che si vede sta facendo in modo serio tipo la produzione una coppia di W dentro l'app o SPS quant'è l'energia parliamo di particelle elementarie una cosa che si fa adesso prendiamo questo esempio fino nel 1984 mi pare Carlo Rubio ha preso il Nobel perché in una macchina del CERN hanno fatto un esperimento che consisteva sostanzialmente nel far sbatacchiare uno contro l'altro diciamo due protoni e in questo processo producendo in questo processo una coppia di particelle di leno di bosone intermedie di forze debo di W la cui massa è quant'è la massa del W doppio annaso c'è il protone di 80 GeV bellissimo allora qui stavolta è molto grosso perché sto prendendo due particelle due protoni la cui massa è circa 1 GeV e le voglio portare a un'energia molto alta abbastanza alta da materializzare nell'urto due pallocconi che hanno massa 80 GeV quindi quello che io voglio è avere nel sistema del centro di massa almeno 160 GeV d'accordo? ok allora e questo si faceva al CERN nella macchina con cui eccetera eccetera perché si riusciva a portare i due fasci di protoni uno contro l'altro diciamo tutti e due a energie un po' superiori a questa e quindi ce n'era abbastanza perché tutta l'energia andava bene se avessi voluto fare lo stesso botto accelerando solo un fascio di protoni e poi sparandolo su un percone fermo quanta energia mi sarebbe servita a questo punto allora andiamo a vedere quando i numeri sono grossi io voglio qua dentro faccio il calcolo in GeV qua dentro voglio 2 per 80 GeV quindi 160 GeV al quadrato quindi io voglio 160 al quadrato fa spicci 2,2 per 10 a 4 questo è 2mc quadro cioè due volte l'energia di ipocosola massa delle particelle sbatacchianti che sono due protoni che hanno massa con genere quindi questo è 2 questo vuol dire che se volessi fare questo botto col vecchio sistema dovrei costruire una macchina che accelera protoni a qualcosa come 10.000 Giga Eletron Volt oggi ci siamo quasi perché LHC sta arrivando a qualche Tera Eletron Volt adesso non mi ricordo più le cifre esatte qui è arrivato un Tera è 1000 Giga quindi potenziando opportunamente LHC si potrebbe fare questo botto con un altro che ha infinitamente più e andando un po' più su fare il conto col bosone di X con le cose il problema è che il vantaggio qui non è fattore 2 qui io voglio fare io voglio 160 Giga 100 Giga ordine di grandezza nel centro di massa e per farli con l'altro sistema non devo fare 200 devo fare 10.000 non funziona più quindi questo è un conticino venino e naturalmente questa è una cosa che la gente lo sapeva ed è la ragione per cui a un certo punto qualcuno ha deciso che era il caso di smetterla di costruire ciambelloni sempre più grossi da cui estraire un fascino di particelle veloci le sparate su un bersaglio fermo e inventarsi una maniera di fare ciambellini in cui però due fasci di particelle girano verso il posto e quando le fai fare a capocciate lo fai nel sistema del centro di massa perché il vantaggio è che in quel caso ce l'hai tutta l'energia è la buona mentre in questo caso l'energia buona per fare il voto è sempre una frazione percentualmente sempre minore di quella che ci metti dentro c'è un aneddoto molto carino che non è un aneddoto è vero nel 1954 quando ancora questa roba nuova non era stata inventata è stata inventata alla fine del 1950 a un convegno di fisica uno degli ultimi convegni di fisica con cui ho partecipato e lo dico fermi che è morto alla fine del 1954 si discute appunto del futuro della fisica delle articelle elementari e di quanto avrei potuto andare su con l'energia delle macchine per fare botti sempre più interessanti e Fermi ha fatto due conti per vedere la fisica che si potrebbe avere voglia di fare e ha proiettato una diapositiva che non c'è un primo che l'ha fatta così sostanzialmente questa è la terra e questa è l'acceleratore se vogliamo arrivare a certe energie tra poco vorremmo inventarci ovviamente era poco più che una battuta per dire ragazzi o ci facciamo venire in mente un'idea nuova oppure lungo questa strada non possiamo andare molto lontano quella che diceva avversario fermo si col titolo del sistema avversario fermo che era l'unico sistema in cui si sapeva fare adesso naturalmente perché ci hanno pensato prima perché il conto è questo conto è un conto della serba nel senso che chiunque è in grado di capire una volta capito la realità che contiene fare i botti così piuttosto che così da questo a costruirlo per davvero una macchina che ti fa il lavoro non ce ne passa non può l'idea è venuta a varia gente ma insomma il primo posto in cui poi un oggetto del genere è stato effettivamente costruito qua vicino si 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 che diceva che ci aveva un altro piccolo ma certo ma cosa mi diceva il primo prototipo che non è servito neanche per farci dei veri esperimenti non è servito per dimostrare che l'idea era praticabile era un cervellore di due metri diciamo fuori però ci aveva nel centro di massa più energia dei più potenti acceleratori esistenti all'epoca anche se ancora con quello non si poteva fare la fisica però si poteva vedere che l'idea funzionava ma Giulio aveva una modalità molto carina di spiegare il punto di Giulio che era un personaggio lo voleva utilizzarlo lui era di origine australia era un po' che si divertiva a parlare con l'italiano fin con un parcento tritesco perché poi si permette di fare le parole e lei faceva questa seguente considerazione in modo qualitativo di spiegare questa cosa dice cosa facciamo noi nei altri laboratori noi prendiamo una pallina da ping pong ferma un'altra pallina da ping pong e la facciamo diventare un treno e quando questa è diventata un treno la tiriamo contro una pallina da ping pong ferma questo è stupido molto stupido io voglio fare treni ma si cresce insomma se tu tiri il treno su una palla da biliardo tutta l'energia rimane l'energia cinetica del treno che se ne va a spasso insomma si la palla scappa via ma chi se ne frega insomma non è mai fatto un botto da niente ma andrà un po' più piano il treno ma fa una bella collisione fra l'automotive e l'idea di luce era appunto che man mano che acceleri la massa di questo affare l'energia diventa la pallina da ping pong la fa diventare un treno e quindi quanto più il treno diventa tanto più è stupido usarlo in quel modo e tanto più diventa intelligente provare invece a fare appunto treni contro treni i numeri sono interessanti adesso non mi ricordo le cifre esatte ma credo che Ada che era questo primo anello col disore in cui no che viene la difficoltà qual è? scusate questa è una cosa interessante è che per fare un negro solo in cui girano in verso opposto ce ne rimette particelle e antiparticelle perché quello che fa girare le particelle è il campo magnetico e se le puoi far girare in due versi opposti è di avere particelle e le radiche opposte con lo stesso campo quindi uno dei problemi non banali infatti fino allora qualcuno aveva pensato di fare una cosa di questo tipo uno girano e nessuno ma facciamo l'euro sempre due anelli no? in questo modo se tu fai due anelli ma in tutti e due fai circolare per esempio elettroni che sono facili diciamo facili quello che succede è che questi girano per così questi girano per così in questo punto quando si incontrano questi arrivano cos'ha questi arrivano cos'ha fanno accappucciate da fermi però fanno elettroni contro elettroni e poi le ricostrui comunque due anelli ma sono sempre il video che tu scelte è che stai fanno in una sola di anelli però per farne una sola non posso fare elettroni o elettroni perché se girano di qua e qui devo fare elettroni che girano per di qua e positroni che girano per di qua e costruisciano fabbricare una sorgente di positroni che non sono particelle che si trovano infilarla dentro lo stesso anello in cui girano gli elettroni far vedere che effettivamente queste due cose continuano a vivere abbastanza a lungo e a girare in modo da poter poi fare effettivamente le collisioni e quindi studiare la visione eccetera beh questo insomma non conto è pensarla non conto è farla vero a difficoltare le norme ma il trucco della faccenda è che e qui di nuovo forremo a fare i metri questo fregno buffo che era una ciambella grossa non c'è di nuovo poco più di quella mia apertura due metri c'era dentro due fasci di particelle che andavano dell'energia ciascuno di per esempio 300 mega elettrovolt totale c'avevi 600 nell'accordo delle eventuali collisioni c'avevi 600 mega elettrovolt tutti buoni per fare il botto bene all'epoca a Frascati c'era un acceleratore di elettroni l'elettrosincrotrone che accelerava un fascio di elettroni all'energia di un giga di elettromonto ed era un fregno di circa l'elettrosincrotrone che era stato a circa 20 metri di diametro era una macchina piuttosto grossa insomma ma questo funzionava proprio a questo sistema diciamo gli elettroni giravano per così e poi trasi sparati su un messaggio eccetera allora facciamo il conto con la formuletta del primo ah ma ancora qua quant'era l'energia del centro l'energia buona è questa bene allora io qui c'ho un in gel qui c'ho due volte la massa energia dell'elettrone che è il mezzo mega elettron volt quindi questo è un mega elettron volt un mega elettron volt ok quindi questo è facciamo il conto il mega elettron volt questo è mille perché è un gel quindi mille mega elettron volt questo è uno quindi questo è mille quadrato la radice è 33 questo freno buffo largo di un etri aveva potenzialmente un'energia utile venti volte più grande che questa beh alla faccia come si dice dell'espanio insomma poi dopo di che il ciambellino di Ada è diventato valore poi è diventato le grosse macchine poi scalare opportunamente le cose si vede che quando si arriva alle altissime energie oggi siamo ormai anche al limite tecnologico in alcune di queste macchine insomma in fine discussione se sia possibile o meno un vintasse l'acceleratore ancora del grosso IED HC ma comunque se provate a prendere i numeri delle macchine di oggi e vedere quanto dovrebbe essere grosso o quanta energia dovrebbe pure la stessa cosa in qualche senso un acceleratore di vecchio tipo convenzionale per fare la stessa cosa altro che il disegno dei fermi di un acceleratore che gira attorno alla terra insomma stiamo con cose ovviamente quindi tra l'altro un bel esempio in cui in cui si vede come funziona questa roba che alla fine è la fisica della realtà in certi versi e poi si vede anche un bel esempio di come a volte quando c'è un impasso in una direzione di ricerca è l'idea nuova in un interno di fatto che li produe sempre su scala di larga roba ovviamente che vogliono fare? domande? no domande non mi esagino domande allora dieci minuti ma perché trasformazione di Lorenz e non di Einstein allora qui si apre un altro capitolo avevo detto che non lo volevo fare no non perché non volevo farlo perché volevo raccontare la storia di un'idea nuova di un'idea nuova perché la storia come si serve chi ha avuto l'idea iniziale un'altra lezione sulla parte storica non so sì c'è la promessa la promessa perché se uno racconta un po' la storia di questa roba però prima bisogna avere un minimo un minimo avere avuto il flavor di che si parla poi si capisce meglio certe cose tutta questa maledetta storia della massa se uno racconta cosa è la storia quello che si capisca meglio si può fare comunque la risposta è molto semplice perché la sformazione di Lorenz l'ha scritta Lorenz e non Einstein prima ma parecchio diciamo ha cominciato a pensarci e a scrivere qualcosa di non definitivo una decina di anni prima di Einstein si ha preso da Maxwell beh le origini di tutto questo dopo Maxwell da Maxwell sì sì chi ne vede Lorenz ha lavorato con questa roba tra il 1892 90 e il 1905 e poi l'ho per cui si è avuto e infatti una delle storie una delle ragioni per cui molto spesso questa storia è complicata da digerire come viene raccontata è perché si sovrappone la maniera in cui la capiamo oggi la maniera in cui la pensavano prima di Einstein quante eredità di quello che era pre-Einstein è confunita dentro alcune delle... c'è una storia complicata che noi ci vediamo sempre dietro nel linguaggio poi alla fine qui parliamo della contrazione di Lorenz la massa che dipende dalla velocità eccetera eccetera tutte cose che si capiscono meglio se uno ricostruisce la storia di tutta questa faccenda che è vero insomma la risposta alla tua domanda è banale si chiama trasformazione di Lorenz perché ha scritto Lorenz il quale non ci vediamo di per la lettera e quindi tanto per dirne una insomma quindi come diavolo ha fatto perché le cose sono un po' più complicate di come uno si racconta la prossima lezione che pensa di incontrare la prossima lezione che non era bevista però se c'è questa curiosità storia a me era benissimo di essere altrimenti raccontare un po' di storia di questa roba a questo punto però non so quando perché 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 tanto perché bisogna sentire la disponibilità di questo posto e poi perché devo vedere con la gente alla mano se per esempio nel prossimo fosse libero questo posto nel prossimo giorno è 16 è 16 finché succede il 16 sera presentazione dei libri di orge la risposta a un programmatico manda c'è la presentazione di un libro il prossimo c'è la presentazione dei libri di un libro con un po' è impegnato quando mandare il pomeriggio quindi sto a fare solo il pomeriggio lo fai in tedesco può fare se non c'è in ogni caso quello è un solito lago di 18 se può fare un fondamento storico diciamo che poi è il contrario se non c'è se non c'è se non c'è se non c'è no però fatemi controllare che io sono l'aria no però non ho qualcuna cosa